Gabriele Paolini, celebre disturbatore televisivo, rende noto, dal carcere di Rieti, dove è rinchiuso per scontare dei cumuli di pena, circa otto anni in totale, di aver scritto un libro dal titolo provocatorio, come evadere dal carcere, con sottotitolo, gli agenti della polizia penitenziaria sono angeli in un inferno di emozioni. Un libro scritto con l'aiuto del suo compagno di cella Alvaro Molina, cittadino dell'Equador. Il testo dovrebbe uscire nel mese di ottobre 2022 e contiene le riflessioni del noto disturbatore tv sulla vita nel carcere. Gabriele Paolini compie 48 anni, 12 ottobre prossimo. Grazie.